Eccoci qua con un nuovo video Dolls News. Sì, lo so, ve l'ho detto nello scorso video haul, ve lo ripeto, è vero, vi sto pubblicando tanti video Dolls News e haul ravvicinati, ma se compro un sacco di cose e se annunciano un sacco di bambole, ragazzi, non è colpa mia! E noi siamo qua per mostrarvi le cose e per parlare di tutte le novità belle e brutte. Oggi ho visto che ce ne saranno anche delle belle, molto belle, troppo belle, troppo, troppo belle, troppo costose, quindi iniziamo subito! Quindi, telefono alla mano, iniziamo subito con... Monster Eye sono qui, le mie Reproduction sono qui per un motivo. Allora, Mattel ha annunciato anche che sarebbe uscita la nuova Toralei e un nuovo Deuce, il compagno di Clio e a quanto pare i primi che usciranno saranno all'interno di un pacco da, adesso ve lo dico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dove ci saranno nuove versioni anche di Claudine, Clio, Draculaura, Frankie e ci saranno appunto Toralei e Deuce. Il problema è che fanno tutte cagare, strano no? Molto cagare. È una versione sport, cheerleader, un qualcosa del genere. No, è un po' un misto, si chiamerà Spirit, Goal Spirit. Io penso che sarà una di quelle cose non da scartare, ma proprio da far finta di non averla mai vista. Mi sono spiegato. Quindi non lo so. L'unica cosa su cui vorrei un attimino concentrarmi è sulla bellezza dei capelli floccati, di questi capelli corti di Frankie. Guardate che belli. Non si sono nemmeno sprecati a fare la floccatura, è tutta completamente e solamente lucida. Praticamente queste nuove Monster Eye sembrano delle Cave Club con la qualità delle Enchantimals. Io prego Dio che non sia così, ma guardare questa Frankie, questa foto in particolare di Frankie, sembra veramente una delle prime Enchantimals uscite, che vi ho anche già recensito anni fa. E la cosa mi rende molto molto triste. Poi abbiamo finalmente delle immagini di Laguna Blu. Laguna Blu che non è più blu, quindi Laguna Blu che non è blu ma è rosa? Mmm, Mattel. Non so se sai la differenza tra blu e rosa. Se vuoi te lo dico anche in inglese, blu e pink. Pink è questo, questo, questo. Blu è un'altra cosa. Non c'è un cazzo qua di blu. Il blu è così mascuro, quindi se ti serve qualcuno che ti spieghi la differenza dei colori, chiamaci, siamo in tanti al mondo a sapere cos'è il rosa e cos'è il blu. Ma, detto questo, devo ammettere che apprezzo molto una scelta che hanno fatto. Perché è vero che è molto rosa, perché è un rosa quasi bubblegum. Ma, secondo me, loro più che rosa bubblegum volevano renderla rosa umana, anche se non ce l'hanno fatta. Ma ha le gambe che sfumano in color acqua azzurro trasparente. Come, appunto, se lei, diciamo, si trasformasse, si sciogliesse, diventasse un tutt'uno con l'acqua. Questo lo apprezzo, cosa che però non apprezzo sono tutti quei pua che hai in fronte. Sotto le guance posso anche dire, vabbè, laguna blu ha le lentiggini blu. Già è rosa, dovrebbe essere blu, almeno ci hanno messo le lentiggini blu. Ma quella roba in fronte, cosa mi sta a rappresentare? Perché non sono delle squame, sono dei pua. Boh, probabilmente loro hanno detto, ma facciamo laguna pua, laguna pink pua, qualcosa del genere. Ho un pelo, probabilmente della mia gatta, che mi sono portato dietro da casa, appiccicato in faccia e non riesco a capire come toglierlo. Ma, ecco, ce l'ho fatta, l'ho tolto. Ma prima di passare ad un altro argomento, vorrei anche guardare un attimino Deuce da vicino e Toralei, perché lei non è più lei. Cioè, proprio è un altro personaggio con lo stesso nome. Neanche in Beautiful fanno così, che quando è morto Ridge hanno cambiato attore, ma in Beautiful se lo possono anche permettere. Qui no, cazzo. Non lo so, vi giuro ragazzi, più vedo immagini, più vedo foto, più vedo cose di delle Monster High, di questa generazione tra delle Monster High, più ci rimango male. Anche Claudine qui è terrificante, che sapete che l'altra volta un attimino l'ho salvata. E Deuce, devo aggiungere altro? No. Quindi ho aggiunto questa cosa per non aggiungere ben nulla. Ma fa niente. Andiamo avanti con, invece, le nuove uscite Disney Store. È vero, non sono ancora uscite, sono annunciate. Limited Edition, che saranno, non ho ben capito, perché c'è chi dice che saranno in esclusiva per il D23. C'è chi dice che saranno prima in prevendita il D23 e poi usciranno anche sullo shop online. Ci sono un sacco di informazioni e non si capisce nulla. E in più, come se non bastasse, ci sono anche molti fake che girano. Ma, in teoria, quelle che vi dico io non dovrebbero essere fake. Se scoprirò che sono fake, nel prossimo video vi aggiornerò, ovviamente, e farò una rettifica. Ma, ragazzi, guardate. Hanno fatto la Limited Edition di Giselle, dal film Come d'Incanto. È bellissima. Ammetto che non è tra quelle che acquisterei, ma non posso dire che sia brutta. Perché è davvero, davvero bella. Il vestito è realizzato benissimo. Il viso è molto bello, i capelli sembrano molto belli e, in più, è una Limited grande. Poi, sempre grande e sempre realizzata molto bene, e qui comincia a venirmi un pochino di nervoso, uscirà una nuova versione di Merida. Guardatela. Ha tutti i ricami al posto giusto. Non sembra avere cose stampate, ma sembra avere tutte cose ricamate. I tessuti sembrano veramente buoni. I capelli sono semplicemente sciolti, ma chi se ne frega. E, in più, ha anche l'arco con le frecce e i suoi dorsetti. Una che, invece, ho visto che ha fatto impazzire molti, ma a me da queste foto non dice invece più di tanto, è un'altra Limited Edition. Sì, ne hanno sparate a raffica per questo D23. Ed è quella di Jasmine, sempre grande, con però il vestito viola. Che è un blu-viola, non si capisce se sarà più blu o più viola. Con la lampada di Aladino in mano. E, ragazzi, il vestito sembra fantastico. Con dei ricami meravigliosi, le scarpe sembrano bellissime. Ma non mi convince il suo viso. Sono onesto, non mi convince il suo viso. Trovo che il viso realizzato per la designer sia molto più bello, un po' più sensuale, un po' più ammiccante, un po' più elegante. Questa, da queste foto, e sappiamo che il Disney Store le foto non le sa fare, sembra quasi avere un mold diverso. Quindi non lo so, però comunque rimane una bellissima bambola. Quella che invece, quando l'ho vista, mi è venuto il nervoso, perché non puoi, Disney, creare questa bambola solo per il D23. Non puoi. Dovrebbe essere illegale. Dovrebbe essere una cosa punibile per legge, ok? Perché hanno fatto questo pacco doppio con Megara ed Hercules, dove Megara, ragazzi, è meravigliosa, ok? Lo ripeto, meravigliosa, cazzo! E per questa non ci sono notizie se uscirà o meno sullo shop online. Il suo prezzo sarà altissimo, perché costeranno, se non sbaglio, 400 euro, che è una follia per questo pacco. Però lei, ragazzi, guardatela, è realizzata in un modo veramente assurdo, è fatta da Dio. Hanno anche degli inserti che sembrano essere di metallo, mescolati, tra virgolette, insieme alla stoffa. Io non so cosa dire, io la voglio, io la voglio tanto, ma la voglio anche di più di tanto. Però già costa tanto. Se in più sarà un'esclusiva di 23, vi immaginate quanto potrebbe costare su eBay? Minimo, minimo, il doppio, minimo. Quindi o avrò la botta di culo, che non la vorrà nessuno, illuso, oppure mi sa che non la avrò mai. Ma io continuo a sperare, perché bisogna sempre sperare. Mai smettere di credere in quello che si vuole e nei propri sogni, perché prima o poi arrivano. Poi ci dovrebbe essere l'ultima, no, ce ne sono altre due, perché veramente ve l'ho detto. Hanno sparato una balanga di annunci di limited edition, dove c'è anche una bambola per Black Panther. Da quanto ho capito, non sarà l'unica. E questa è Shuri. Non sembra male, non è il mio genere, però sembra fatta bene. Ve la mostro, perché è giusto che io ve la faccia vedere. Però questa sicuramente, anche se uscisse qui da noi, anche se costasse poco, credo che non l'acquisterei proprio per una questione di gusti. Invece, invece, questa inizialmente dicevano che fosse un fake. E io lo speravo, e invece non è un fake. Hanno fatto una nuova limited edition di Biancaneve grande, vestita praticamente da sposa. E quando fanno le limited edition di Biancaneve, ragazzi, ha sempre un viso meraviglioso. E questa, sempre davvero bella, bella, bella. Tutta bianca, con questi ricami, con questa stoffa rossa nelle spalline. Oh mio Dio, sento già il portafoglio che si svuota, anche se ormai non c'è più niente. Ma, prima di proseguire e di lasciare le cose Disney, ce n'è un'altra. Che hanno annunciato, se non sbaglio, la stessa sera in cui io ho registrato lo scorso video. E infatti non potete immaginare la raffica di bestemmie che mi è partita. Belle, Disney Designer Collection, The Ultimate Princess Celebration. Che è l'ultima, almeno qui in Europa, delle 12 principesse della linea. Quindi lei sarà la conclusione di questa linea. Allora, per lei vorrei spendere un minutino. Perché? Le foto sono uscite a pezzi. Prima è uscito solo il viso, poi è uscito un mezzo busto, poi sono uscite le foto intere. Devo ammettere che piano piano è migliorata. Devo ammettere che il vestito mi piace molto. Anche se, per gusto personale, sotto a quella gonna trasparente non avrei messo nulla. Ma sapete che a me piacciono zoccoline e il Disney Store, le principesse zoccole, non le farà mai. Purtroppo, anche se secondo me una versione zoccola delle principesse, ragazzi, potrebbe essere una cosa fantastica. Cos'è che non mi piace? Prima di tutto, la sua conciatura sembra che gli abbiano caccato in testa. Perché quella cosa sembra della cacca arrotolata in testa. E poi il suo viso. Il suo viso non mi convince, proprio per niente. Quindi io spero, come al solito, che le foto facciano cagare. Sicuramente dal vivo sarà meglio, sappiamo che dal vivo sono sempre meglio. Però, però, chissà quanto meglio. Io spero tanto, perché ovviamente mi manca solo lei e la acquisterò. Diciamo che mi aspettavo molto di più. Soprattutto, ripeto, per il viso e i capelli. Invece così non ci siamo. Andando avanti ci sono però altre due limited. Ma questa volta sono due limited particolari. E sono le ultime cose Disney, in teoria, per questo video. Queste limited saranno sempre un'esclusiva per il D23 del 2022. Ma sono create da Britney Lee. Britney Lee? Può essere Britney Lee? Sì, dovrebbe essere Britney Lee. E sono Anna ed Elsa in questa versione molto particolare. Sembrano quasi asiatiche. Con questi occhi molto allungati, con questi tratti un po' particolari, con i vestiti un po' rivisitati. Sono molto belle, sicuramente sono molto belle, senza dubbio. Però faccio fatica a vederci Anna ed Elsa. E quindi non mi sento spinto all'acquisto. Di conseguenza per me è un sì, belle bambole, no, perché non sono quel personaggio. E visto che queste bambole non sono come designer che vogliono solamente prendere il personaggio e trasformarlo ispirandosi un pochino. Queste sono proprio nei loro abiti originali. Se dovessi dare un voto per la bellezza dico 9 Elsa e 7 Anna. Se devo darvi un voto per la mia voglia di acquistarle, la voglia che mi porta ad acquistarle, è un 5 Elsa e 2 Anna. Quindi avete capito. Altre cose che sono state annunciate proprio subito dopo il mio video, ci sono tante, tante, tante Rainbow e Shadow High. MGA non si sta fermando un secondo e secondo me ragazzi stanno veramente esagerando. Va a finire che manderanno in odio la linea anche ai collezionisti più accaniti perché stanno veramente rompendo le balle. Non possono far uscire così tante bambole continuamente. Anche il collezionista più accanito non può starci dietro materialmente. Dovrebbero capire che la gente lavora per avere i soldi per acquistare questi prodotti. E se ne fanno così tanti la gente è costretta a scegliere e non può acquistarli tutti. Ma finita questa parentesi deve uscire Roxy Grand che è la Holiday Edition Collector delle Rainbow High. Posso dirvi che mi fa cagare? Posso dirlo o mi ammazzate tutti? Non mi fa cagare perché è una bambola brutta. Se è chiaro mi fa cagare perché è semplicissima. Ha un trucco meraviglioso perché il trucco sugli occhi è veramente bello. Tutto colorato, fatto bene, i suoi occhi sono belli, il viso è bello, i baby hair bianchi, hai capelli con queste ciocchettine leggermente colorate. Ma il vestito è di una semplicità disarmante. Come puoi dirmi che questa è una bambola da collezione? Una Holiday Edition Collection. Vi ricordate che ve l'ho recensita la LOL OMG New Year's Eve? Una cosa del genere, se non mi ricordo, NYE, quella tutta oro dell'anno scorso? Quella era una Collector con il mantello di pelo, con la corona in testa, con la doppia gonna. Cioè era pazzesca con il bustino di plastica. Questa che cazzo di bambola Collector è? Sembra una Barbie Fashionistas con due braccialetti in più messa in una scatola bellissima perché la scatola è effettivamente bella. Ci sono rimasto davvero malissimo, mi ha fatto cagare. Ma passiamo a Barbie, poi torneremo ve lo assicuro sulle Rainbow High perché ne abbiamo ancora tante. Non contenti di aver fatto uscire quella Barbie Dia de Muerto, che non so mai come si dice, che vi ho già fatto vedere nello scorso video, ne uscirà anche un'altra in versione nera, ma nera inteso come tutto vestito nero, con una balanga di ricami. Questa Barbie ragazzi è davvero, davvero fatta bene. Oltre ad avere il viso stampato appositamente ispirato ovviamente a questa occasione, ha anche tutto questo vestito davvero ricamato benissimo con tutte queste rose stupende. Sono rimasto abbastanza senza parole perché da Mattel non me lo aspettavo. E in più assieme a lei uscirà anche un Ken sempre per la stessa occasione. Però lui, non lo so, mi sembra un pochino più in linea con la precedente. Qualche ricamo sì, ma anche qualche risparmio su tutto il resto. Invece quella che vi ho appena fatto vedere con il vestito completamente nero sembra veramente una figata. Passando, anzi no, invece tornando alle Monster High, ma alle Monster High quelle giuste, con le Cree Production non si sono fermati. Hanno deciso di rifare le prime quattro, loro, in versione black and white. Ragazzi, le voglio tutte. Non so cosa farci. Sono speccicate identiche a queste qui, solo che sono completamente in bianco e nero. Hanno qualche cosa di colorato, infatti in teoria dovrebbero avere gli occhi e qualche ciocca di capelli del loro colore dominante. Infatti vediamo che Draculaura è tutta bianca e nera con le ciocche e gli occhi fucsia. Claudine Wolf è tutta bianca e nera con gli occhi e le ciocche dei capelli viola. La stessa cosa vale per Frankie però con il blu e ovviamente anche per Laguna Blu dove però abbiamo il colore azzurro. Ovviamente saranno tutte vendute con lo stand e avranno tutti i capelli lunghissimi, molto più lunghi delle versioni normali di queste qui. Inutile dire che le voglio tutte e che le trovo veramente bellissime. Quando Mattel ripropone queste cose, queste Monster Eye leggermente modificate, riproposte in una chiave leggermente diversa tipo appunto il black and white, io divento matto. Quindi queste bambole dovranno per forza essere mie purtroppo tutte e quattro. E giù soldi! Poi torniamo un minuto ad MGA perché qui c'è un tasto per me molto dolente. Sapete che io amo le Lolo MG. Sapete che ho acquistato già tutte le prime quattro Lolo MG Fierce. Sapete che devo recensirvele. Purtroppo non ho ancora avuto tempo di recensirvele nemmeno una ma arriveranno, ve lo assicuro. Ho preferito fare prima altri video che forse erano un pochino più urgenti e che ci tenevo di più a fare ma arriveranno. E vi devo dire che già guardando bene le Fierce, quelle che ho a casa, mi ha deluso una cosa, ma ne parleremo nelle recensioni. Tutto questo per dirvi che hanno annunciato la Collector di quest'anno delle Lolo, che non sarà una Lolo OMG, ma sarà una Lolo OMG Fierce. E sarà Cleopatra, qui la vedete, ha una scatola meravigliosa, si apre come se fossero le ali di uno scarabeo, sul retro una volta aperta si vede praticamente tutto il suo artwork. Hanno avuto un'idea geniale e come dico sempre, non mi stofferò mai di dirlo, il team che segue le Lolo OMG e le Fierce dovrebbe insegnare al team delle Rainbow High a fare determinate cose, ad avere certe idee. Perché secondo me, ovviamente è soggettivo ma io la penso così, secondo me l'idea anche solo di questa scatola batte 50 Collector Rainbow High. Ma ragazzi, c'è un grosso ma. Non mi convince del tutto. E mi dispiace moltissimo perché è a tema Egitto e io amo, ve l'ho detto sempre, tutto ciò che è a tema Egitto, tutto ciò che circonda l'Egitto. Mi piace un sacco quando le bambole sono puttanone e lei è molto puttanona. Adoro l'oro. Quindi diciamo che sulla carta questa bambola sembrava fatta per me. Eppure sapete che non mi convince. Spero di vederla dal vivo, spero di ricredermi, spero di vedere le recensioni, spero di vedere un sacco di cose che mi facciano cambiare idea. Ma il colore degli occhi non mi piace. Il vestito è fatto benissimo ma ha qualcosa che non mi torna. Mi sembra quasi più che una bambola con una personalità o un manichino con dei vestiti buttati su. Non so perché ma purtroppo mi dà questa sensazione e non potete capire quanto mi dispiace perché ripeto Egitto, oro e bambole puttanone era praticamente la mia. Ma andiamo avanti e passiamo a tutte le rainbow high che hanno annunciato. Io non lo so, l'ho già detto prima, non mi ripeto. Comunque dovranno uscire delle rainbow high e shadow high per la linea rainbow vision e saranno a tema, non ho ben capito se è Halloween o qualcosa del genere, comunque saranno mascherate. E saranno tre rainbow high e tre shadow high. Avremo quella vestita da ragno, quella da vampiro, quella da non lo so, penso tipo catwoman o una cosa del genere, da fatina, da strega e da gattina. Le tre shadow high saranno una rosa, una sui toni dell'azzurro e una ovviamente viola, vampiro, fatina e penso gatto. La scatola è meravigliosa perché la scatola è davvero bella, con tutto questo artwork fuori dove la bambola all'interno non si vede se non una volta aperta. Rendono veramente l'idea di bambole da collezione anche se in teoria saranno delle playline. Ma basta ragazzi, un po' meno, anche perché poi ci sono appunto le tre rainbow high invece. Ah, dovrebbe essere la linea, se non sbaglio, rainbow vision costume ball, quindi costumi da ballo, della festa dal ballo, non lo so. Comunque invece quella con la ragnatela da ragno sarà appunto nelle rainbow high, poi la strega e invece la catwoman è quella viola. Ovviamente sono personaggi già usciti tipo Bella Parker, Violet Willow, mi pare che si chiami. Comunque sono personaggi già usciti, solamente vestiti in un modo diverso. Come hanno fatto le cheerleader adesso stanno facendo questa cosa qui. Vabbè, sono carine, costeranno una follia. Alcune sono davvero carine tipo Bella Parker tutta di rosa con questo vestitino così è molto carina. Però ragazzi, veramente anche basta e non sono finite perché nel frattempo ce ne sono altre tre rainbow high che sono le sempre linea rainbow vision, royal qualcosa e saranno mini Tessa e Tiara. Quindi sono tre personaggi nuovi e saranno praticamente da quanto ho capito tre cantanti tipo un gruppo musicale, una cosa del genere. Non lo so, stiamo un po' esagerando, non posso dire altro e andiamo avanti. Mattel ha lanciato una nuova signature ispirata a Gloria Estefan o meglio omaggiando Gloria Estefan, una cantante e cantautrice soprattutto. Vi mostro la foto, non credo interessi a molti di voi che mi seguite ma comunque io ve la mostro. E poi invece passiamo un attimo alle naturistas che se vi ricordate sono quelle linee di bambole tutte completamente afro con diversi tipi di colore di carnagione e soprattutto diversi tipi di capelli perché i capelli hanno una classificazione con delle lettere e dei numeri in base alla texture, quelli lisci, quelli mossi e quelli ricci. Queste bambole sono state create ognuna con un diverso tipo di riccio in modo da comprendere diciamo tutte le varianti dei capelli afro, una per ogni bambola. Io vorrei acquistarle, il problema è che qui non ho vista neanche mezza, non si trovano manco su Amazon quindi posso solo che aspettare incrociare le dita. Ma nel frattempo hanno già rilasciato due fashion pack dove uno è praticamente per la sera con la cappatoio, con la fascettina per i capelli, lo specchietto e la spazzola invece l'altro è un pochino più casual perché ha dei pantaloni e un top con la borsetta e un bibitone tipo Starbucks. Molto carini, veramente molto carini, peccato che io vorrei acquistarli ma non si può perché qui non ci sono. Poi andando avanti troviamo anche un'altra bambola della linea Woman Inspiration di Mattel ed è ispirata a Madame CJ Walker che se non ho capito male perché ammetto che nella mia ignoranza ho dovuto cercare chi fosse questa persona se non sbaglio lei è stata una delle prime a riuscire a crearsi un impero, ad arricchirsi grazie ad un prodotto creato da lei. In poche parole lei ha creato una linea di prodotti per capelli dedicata quasi esclusivamente ai capelli afro e questa donna è riuscita a far fortuna con questi prodotti. Quindi Mattel ha deciso come donna di ispirazione di dedicarle questa bambola. Quando la dedicheranno a me sarà troppo tardi, spero lo facciano prima della mia morte. Poi però ci sono ovviamente altre Barbie Playline come ad esempio questo workout set con questa Barbie leggermente snodata credo che abbia le articolazioni semplicemente di una extra quindi non una made to move con il cagnolino, con vari accessori, i pesi eccetera. Poi usciranno due skipper babysitter, niente di che, va bene, ok. Una seconda Barbie biologa marina, molto carina, peccato che ormai queste bambole di questi playset le facciano sempre e solo senza articolazioni, tutte stoccafissi. Però gli accessori sono belli, la valigetta è carina, la bambola non sembra male ma tutto molto semplice, molto basic e sarà in due versioni. Ci sarà la versione bionda, la classica Barbie e la versione invece con la carnagione più scura e i capelli castani. Poi continua anche la linea Dreamtopia che, vabbè, io l'avrei fatta chiudere non so quanto tempo fa visto come la trattano, semplicemente uscirà questa bambola che ha anche la coda da sirena o una gonna un pochino più lunga. Diciamo che passa da pesce a unicorno a bambola. Non si capisce un cazzo. Un'altra Barbie che uscirà è una Barbie che adotta i cani. Ve la lascio qui e non aggiungo altro. Poi un altro set con Skipper, il Dream Set, una cosa del genere. Praticamente un set dove c'è una culla e dei cani. Ok. Barbie Self Care Spa, cioè una Barbie con la spazzolina per il viso. Ragazzi, ma, cioè... Gli accessori sono anche carini per quello, ma no. Poi, novità delle novità. Hanno annunciato due nuove bambole di Sailor Moon. Sailor Moon in versione Serenity, principessa Serenity, e Kibiusa. Vi dico la verità, non è uno stile che mi piace. Se dovessi fare oggi delle bambole ispirate a Sailor Moon, le farei completamente diverse. Le farei completamente articolate, con un corpo tipo Made to Move. Proprio per poterle mettere in mille pose, visto che loro combattevano, si trasformavano, facevano un sacco di cose. E soprattutto le farei con delle fattezze un pochino più slanciate, un pochino meno bimbe. E invece loro continuano su questa strada di bambole stoccafissi, con vestiti a quanto pare carini, ma non troppo. Costosissime, perché solitamente queste bambole costano una follia. E con queste fattezze abbastanza infantili, che non lo so, a me dispiace, perché non sapete da quanti anni è che io sto aspettando delle nuove bambole di Sailor Moon. Ma se questo è lo stile, non fa per me. Soprattutto perché dovrei spenderci un sacco di soldi per delle bambole che non mi convincono, quindi no. E per concludere abbiamo concluso, perché sì, siamo arrivati alla conclusione anche di questo video. Come vi dicevo e come avete visto, ci sono state un sacco di cose molto belle, però se avete visto sono rimasto anche un pochino deluso, un po' amareggiato da certe cose. Di sicuro la cosa che più mi ha colpito è Megara in quel set con Hercules, perché ragazzi è meravigliosa. Penso di averlo già detto più volte in questo video. Dall'altra parte sono rimasto un po' male per Cleopatra delle LOL OMG Fierce, perché ve l'ho detto mi dispiace davvero, perché sapete che è una linea che io amo, la linea delle LOL OMG. Mi piace un sacco e ho sempre trovato che i visi delle LOL OMG fossero la loro rovina, nel senso che sono visi talmente particolari che o piacciono o fanno schifo. L'ho sempre pensato, ho fatto fatica anche io all'inizio ad abituarmi, ma è sempre stata anche una linea con dei dettagli allucinanti, dettagli che non ho mai visto in nessun'altra linea di bambole. Nemmeno le Rainbow High ad oggi hanno raggiunto il livello di qualità e di dettagli delle LOL OMG e quando ho saputo delle LOL OMG Fierce ho detto dai che ce la faranno finalmente ad ampliare il pubblico di questo brand, con dei visi nuovi perché se lo merita. E poi mi fate delle bambole così, con queste articolazioni così scadenti. Comunque tutte le varie considerazioni sulle LOL OMG Fierce le faremo appunto nelle loro review, se no adesso vado avanti a parlare troppo. Intanto ragazzi spero di avervi detto un sacco di cose che non sapevate, fatemi sapere qui sotto tra tutte quelle che vi ho detto qual è la bambola che vorreste di più o che vi piace di più. Io ovviamente ve l'ho già detto Megara e come seconda penso proprio Biancaneve, sempre ovviamente la Limited Edition. Quindi aspetto un sacco di vostri commenti, aspetto i vostri like se questo video vi è piaciuto, se vi è tenuto compagnia, se vi ho strappato un sorriso, qualsiasi cosa di positivo. Ma anche no, lasciatemi il like e basta per piacere e se no vengo a trovarvi sotto casa. E me lo metto io con il vostro telefono, con il vostro computer e con la vostra televisione, ok? Quindi mettetemi il like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io intanto ragazzi come sempre vi saluto, vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie.